So bene quello che fate qui. Siete ancora in tempo. Vi mostreremo la via per il regno dei cieli. Pentitevi o le vostre anime non saranno purificate. Che cosa ci fai qui? Stai bene? Chi è quella? Fa parte di quel culto religioso. Pensano di avere una corsia preferenziale per il paradiso. Quella è tua madre? Sì. Cosa le è capitato? Coinvolgere i colleghi significa più problemi e più occhi puntaticui. Ora andiamo a pulire. Tornerai a casa? No, non posso. Ma c'è una regola. Se resti, lavori. E se lavori, noi ti proteggiamo. Sei un opposto? Sì, amico. La tua mente è stata avvelenata. So che non è colpa tua. Io non me ne sono accorto subito. Sei proprio uno splendore. Non devi avere paura. Io non farai male a una mosca. Posso rendermi utile a qualche modo? Noi siamo qui per purificare noi stessi da questo mondo. E quando saremo puri, allora potremo andarci. No, 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 no. No, 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 no. Lo or Wario dell' smokio. No, 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 no. Grazie a tutti.